Presentiamo qui a Milano una nuova versione dello Zenbook Flip UX360, la nuova versione che è pagata con processori di settima generazione, è un modello 2 in 1, viene costruito con materiale alluminio-magnesio ed equipaggiato con 8 GB di memoria RAM e 500 GB SSD tipo SATA 3. La disponibilità sarà a fine ottobre con un prezzo al pubblico di 1.399 euro. Il nuovo Zenbook 3, probabilmente il più piccolo ultramobile mai proposto in precedenza. Questo prodotto è fatto in una lega alluminio-magnesio di derivazione aeronautica che consente praticamente la massima robustezza confrontato ai principali competitor che utilizzano alluminio con materiali simili per la costruzione del prodotto. Come potete vedere, è di dimensioni veramente ridotte, il peso è di 910 grammi e lo spessore è di circa 11,9 mm. Viene proposto in tre colorazioni, gold rose, blu e grey. Come potete vedere, la tastiera ha in dotazione retroilluminata con in dotazione il fingerprint nel touchpad. del touchpad è compatibile con il multitouch di Windows 10. Caratteristiche principali, tra le altre cose, è ovviamente le prestazioni. Non ci facciamo mancare niente. Ricordo che viene equipaggiato con un processore di settima generazione Core i7-7500. Per quanto riguarda la memoria, viene equipaggiato con 16 GB RAM e ha una capiente SSD PCI-SPEP 512 GB. Il tutto viene proposto a un prezzo del 1999 euro e sarà disponibile entro fine ottobre.